attacco aereo nel vostro settore attacco d'artiglieria coordinate delta 4 eliminare delta 4 ricevuto le forze ha capturato una zona avanza si colpiti misterismo della trasmissione fuori uso chico sinistro da mezzato stiamo stati colpiti potere riparato bersaglio colpito attacco aereo nel vostro settore attacco d'artiglieria nel vostro settore pronti a partire parti dietro parla Sì, tutti i nostri amici sono in control. L'amie è getting closer to victory. Alline forces have captured the zone. I've captured the zone. Alline forces have captured the zone. Alline forces have captured the zone. Alline forces have trusted us. Alline forces have caught. Alline forces have captured us. Grazie a tutti. 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 Oh!